La partita, cosa vogliamo dire? Non ha salvato niente, la partita l'ha salvata la squadra, lui ha fatto gol come deve fare, ha calciato una palla in porta, come l'altra volta ha dato un buon pallone. Noi, secondo me, il problema nostro è questo avere anche altre cose a cui dover pensare e non soltanto alla partita, ai risultati della Roma. Ma noi abbiamo diversi giocatori che hanno anche altre attenzioni e queste attenzioni bisogna distribuirle bene nella testa perché sennò poi rischiamo di mettere in confusione un risultato come la partita di oggi. Vera, Luca Vescu, a chi si riferiva adesso nello specifico? Mi riferisco a qualche giocatore che arriva tardi quel decimo di secondo che non prepara bene la partita perché poi si vede da queste sfumature qui insomma che viene rimesso in discussione un risultato come questo qui. Siccome io li conosco, sai, Roma è un po' tentatrice, viene fuori il sole, sembra subito tempo di vacanze, monumenti, la bellezza della città e si perde di vista quella che invece deve essere una distribuzione di attenzioni che va fatta in maniera corretta, che va fatta bene la famiglia e la squadra. I risultati della Roma. Oggi abbiamo portato via una possibilità, mamma mia, una roba. Sono cose che possono accadere in una partita però se lo devono meritare le altre. Invece è evidente che abbiamo abbassato noi, che non siamo così attenti di sfruttare tutte quelle attenzioni che la Roma e che la squadra, che la società deve avere per questi risultati che sono fondamentali per il futuro della nostra società.